Qual è il nome? Come ti chiami? Polosh And where do you come from? India India How old are you? 22 Ah, fantastic Then, the three questions are The first one La prima domanda è Cos'è il design per te? What's design for you? Whatever you imagine Qualsiasi cosa immagini Where? Sorry What's design for you? Cos'è il design per te? Design? Yes Modeling? Modeling? Arradamento moderno? Bella donna Una bella donna è design È vero? Perché no? La seconda domanda invece È questa What object you love? Che oggetto ami? And what object would you like to have? E quale oggetto ti piacerebbe avere? He's big in English What object you like? And what object you like to have? I like I like I like Italiano Hongar Hongar Nice Hongar? E Qualcosa che vorresti avere? Italiano... Pactori Cos'è il Pactori? And you are from India, which city? Bombay Then, talking about Bombay or Milano What do you like in your city and what would you like to have in your city? Cosa ti piace nella tua città e cosa vorresti nella tua città? Milano Yes, what do you like in Milano? All... Milano all city You like the whole city? There is something, place, thing you like more? C'è qualcosa che ti piace di più? You like Duomo 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 And there is something you would like to have? Something there is not, but you like here in Milano? Something you desire here in Milano? Qualcosa che ti piacerebbe avere qui? Aptari, Rome Ro Ro Ok, ti piacerebbe andare anche a Ro Ok, grazie mille Thank you for participating Thank you so much